buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di lenti sia in plastica in resina sia in vetro sono normalmente definite lenti sfuse sono lenti che vengono utilizzate per progetti ottici oppure vengono montate in strutture per diventare una lente di ingrandimento noi presentiamo sfuse quindi la lente e basta perché comunque può essere utilizzata come vera lente di ingrandimento nel frattempo rivediamo alcuni principi di ottica geometrica normalmente una lente di diametro elevato ingrandisce meno rispetto a una lente di più piccolo diametro di diametro minore una lente molto bombata ingrandirà tanto invece una lente più piatta ingrandirà di meno più la lente è bombata quindi ha uno spessore elevato più dovrò avvicinarmi all'oggetto da osservare mentre una lente con uno spessore minore quindi meno bombata l'atterò più distante dall'oggetto da osservare qui vediamo una lente con un buon ingrandimento sta ingrandendo abbastanza e stiamo vedendo un fiore vedete come si vede bene il particolare quando mettiamo la lente ecco adesso vediamo una lente che ingrandisce di meno che è questa che ha un buon diametro e poi vediamo una lente che ingrandisce di più vedete qui stiamo ingrandendo di più rispetto alla lente che abbiamo utilizzato un attimo fa questo ingrandisce di più poi un altro trucco per capire se una lente sta ingrandendo tanto è osservare l'area che si va a vedere ingrandita quando una lente ingrandisce molto la parte osservata il campo di visione della lente è minore rispetto alla lente che ingrandisce di meno ridiciamo gli stessi concetti in modo differente una lente di grande diametro ingrandisce poco e osserva una superficie maggiore rispetto una lente piccola con maggiore potere di ingrandimento la quale osserverà una superficie minore grazie a tutti grazie a tutti prima di salutarvi vi ricordiamo che sul nostro canale potete trovare tanti video dedicati ai prismi ai microscopi alle lenti ingrandimento ai visori tridimensionali alla fibra ottica alla luce ultravioletta a questo punto vi salutiamo e vi aspettiamo per un prossimo nostro video grazie a presto grazie a tutti